Una nuova palazzina popolare a Montesilvano, ad 11 anni dalla posa della prima pietra, è stato finalmente inaugurato l'alloggio di via Salieri lungo la via Vestina, seppur manchino gli ultimissimi lavori come la rete per le utenze. 12 le famiglie che questa mattina hanno ricevuto le chiavi degli appartamenti. Il fabbricato è stato progettato per far sì che anche i portatori di disabilità possano avere un facile accesso alla propria abitazione. Oggi è una grande giornata per il nostro territorio, per la nostra Montesilvano ma soprattutto per 12 famiglie che da oggi sono titolari, assegnatari di appartamenti che oltre ad essere un bel segnale da un punto di vista dell'occupazione abitativa, danno anche un segnale nella direzione della disabilità. Perché questa palazzina è iniziata nel 2009 e oggi finalmente vede la luce, vede interamente la sua fruibilità, ha tutte le caratteristiche per accogliere in maniera idonea le persone appunto a feste di disabilità. E quindi questo è un doppio segnale importante per il nostro territorio. In un periodo peraltro come quello che stiamo vivendo, che è un periodo assolutamente drammatico se vogliamo. Quindi un raggio di sole in un periodo buio. La nuova casa popolare è proprietà del comune di Montesilvano. Il costo dei lavori è stato di circa 1 milione e 350 mila euro. Diversamente da tanti alloggi che sono sul nostro territorio, di proprietà dell'Ater, questo è entrato a far parte del patrimonio comunale, è stato realizzato con dei fondi esterni, quindi extracomunali, ma negli anni ha visto anche delle risorse comunali essere investite su una palazzina che dà un bel segnale per quello che riguarda l'inizia resistenziale pubblica.